Siamo a Decollatura in provincia di Catanzaro, oggi in mia compagnia abbiamo Angela Brigante, candidata a sindaco nel comune a punto di Decollatura nelle prossime elezioni del 10 di giugno, con la lista Decollatura Rinasci. Innanzitutto salutiamo Angela e chiediamo a lei, come mai ha deciso di candidarsi, ma soprattutto quali sono i problemi del territorio e se fossi eletta come sindaco, quale sarebbe il primo a risolvere? Allora, intanto la mia candidatura è nata da un percorso fatto in opposizione per due mandati. Lì è maturata la mia decisione di candidarmi come sindaco, proprio per dare una svolta a Decollatura, proprio per dare il mio contributo a Decollatura, per cercare di cambiare un qualcosa, un cambiamento profondo, un cambiamento che nasce proprio dal fatto, dalla presa di coscienza che Decollatura in tutti questi anni è stata penalizzata da una politica che, diciamo, ha relegato proprio ai margini quelli che sono le emergenze del nostro territorio. Quali sono invece i punti di forza che un paese montano come Decollatura ha e che quindi dovreste rilanciare sia come comune ma come cittadinanza? Allora, io partirei da quelle che sono le problematiche emergenti del nostro territorio. In modo particolare mi riferisco a quella che è la viabilità, perché ci sono zone del territorio dove comunque il manto stradale è dissestato quasi completamente. Ci sono, comunque, mi focalizzerei la mia attenzione su quella che è la gestione dei rifiuti, perché noi puntiamo come lista a realizzare quello che è il compostaggio domestico della frazione dei rifiuti, la frazione organica dei rifiuti. Questo sia da una parte per cercare di puntare su un risparmio, una riduzione delle spese di quello che è lo smaltimento dei rifiuti, e dall'altra parte proprio per creare una riduzione dei rifiuti stessi. Dall'altra parte, un'altra notazione dolente è quella dell'emergenza idrica. L'emergenza idrica che è inconcepibile per un paese come Decollatura, perché Decollatura è un territorio che per le caratteristiche delle falde acquifere può essere autosufficiente in quanto ad approvvigionamento idrico. Naturalmente tutti questi sono punti che sono stati inseriti all'interno di un programma. Un programma che comunque tiene anche conto del fatto della situazione economica critica del Comune. ed è una situazione che tiene anche conto, il nostro programma tiene anche conto del fatto che è stata avviata da parte del Commissario Prefettizio la procedura per il riequilibrio finanziario pluriannale. E serve questa procedura proprio per evitare che il Comune non vada in dissesto, proprio per questa ragione. Naturalmente, proprio tenendo in considerazione questi fattori, anche il programma che noi abbiamo proposto agli elettori deve essere valutato una volta entrati all'interno del Comune, perché non si sa se può essere realizzato così per come noi vogliamo. Di certo la vera vittoria è proprio quella di realizzare anche una parte di quello che ci siamo prefissati di fare. Perfetto, io ringrazio Angela Brigante, candidata appunto a sindaco nella lista Decollatura di Nasci. Riccardo Cristiano, Liberi TV Decollatura. 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 Grazie a tutti